Buongiorno a tutti, ora ufficialmente si comincia e vorrei presentarvi questo signore che noi aspettavamo di incontrare a Romena da molto tempo. Provo a presentarvi, Leonardo Becchetti è un economista, insegna all'università di Tor Vergata a Roma e dal punto di vista della definizione potrebbe bastare anche questo. Potremmo mettere un punto, ma in realtà il punto non ci sta, perché Leonardo Becchetti fa tante altre cose, fa una grande opera di divulgazione con articoli e saggi, gira l'Italia per confrontarsi con giovani, gruppi, associazioni, è artefice e anche snodo di importanti reti come quella di Next che mette insieme una cinquantina di organizzazioni, sindacati, associazioni imprenditoriali, ONG sul tema della responsabilità civile. Ma non abbiamo ancora messo il punto, perché tutto questo lo fa con una straordinaria passione, anche perché dietro e davanti soprattutto nell'orizzonte delle sue idee ci sono non diagrammi cartesiani o grafici comunque asettici, anche se qualche grafico sicuramente ce lo farà vedere, ma c'è l'uomo e il bisogno di dare un senso alla propria vita. Ricordate il famosissimo discorso di Robert Kennedy sul PIL e sui limiti di questo strumento nel misurare la qualità della vita, a un certo punto c'è una frase e dice così, il prodotto interno lordo misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Il lavoro di economista del professor Becchetti parte proprio da qui, da ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. E cos'è che la rende degna di essere vissuta? Se non ho capito male, secondo il prof almeno due cose che ci coinvolgono tantissimo anche nella nostra esperienza di romena. Primo, e lo vediamo in questi giorni, la possibilità di vivere una vita ricca di relazioni. Secondo, la possibilità di essere generativi, cioè di dare il proprio contributo per migliorare il mondo. Insomma, sono tutti aspetti che come vedete mettono il mondo dell'economia profondamente in contatto con ciò che facciamo e ci invitano a un concetto, il terzo e ultimo che vi anticipo prima di dargli la parola, che è centrale nel percorso del professor Becchetti. Essere cittadini attivi, non essere impotenti, capire che anche nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per affrontare i grandi disagi che ci circondano in questo momento. Guerre, pandemie e crisi economica. Con tutto quello che vi ho detto, credo ci sia materia sufficiente per mettersi in ascolto, per incontrare, abbracciare e ora soprattutto immergerci nelle riflessioni di Leonardo Becchetti. Grazie a voi, queste presentazioni troppo belle mi mettono in difficoltà subito, mi ha bruciato metà della presentazione, però grazie. E poi interagiamo ovviamente. Intanto ecco, io non canto, non ballo e devo usare altri registri. Slide, un po' di prosa, ma cerco di portare la stessa passione che ho sentito ieri, questo è un luogo splendido e quindi ho imparato moltissimo venendo qui, cercherò di portare questo, già ho pronto un servizio social quando esco da qui. Allora iniziamo, l'economia non è una cosa brutta, può essere una cosa piena di passione, anche se non vi canto una canzone o non ballo, però dobbiamo partire dai problemi, ma parleremo pochissimo dei problemi, parleremo molto delle soluzioni di come possiamo risplendere. Io scherzo, dicevo, da noi si viene come da un medico, no? E voi pensate, dei miei colleghi parlano solo del problema e poi non hanno ipotesi di risposta, ma se voi andate da un medico e il medico vi guarda le analisi, si mette le mani nei capelli, vi parla per mezz'ora della malattia e non vi dà manco una ricetta, dice voi siete contenti da questo medico, no? Quindi il medico deve provare a dare qualche ricetta. Io i problemi rapidamente. Abbiamo quattro grandi problemi che sono sociale, ambientale, demografico e di senso del vivere. Da dove vengono questi problemi? Questa slide di Parta Dasgupta che ha fatto il rapporto sulla biodiversità con la corona inglese ci spiega benissimo cos'è la storia dell'umanità. In una slide. Vedete, l'anno della nascita di Cristo eravamo 230 milioni sulla faccia della Terra e vivevamo 24 anni in media. Adesso siamo 7 miliardi e 8 di più e viviamo 73 anni. Se voi fate il prodotto di quei due numeri da una parte e dall'altra e fate la sottrazione, vuol dire che noi abbiamo creato le condizioni di vita sulla Terra per 560 miliardi di anni di vita in più. Cioè ce ne sono 560 miliardi in più di là. Quindi vuol dire cosa abbiamo fatto? Abbiamo, attraverso il progresso tecnologico, attraverso l'economia, abbiamo creato le condizioni di vita per tantissime persone. Quindi l'economia è nata con quell'idea. Il messaggio iniziale era che devi produrre più beni perché dobbiamo sfamare tante persone. E' andata dritta per quella strada. Adesso però dobbiamo fermare. Basta, adesso devi cambiare perché siamo arrivati ad un livello, siamo arrivati a toccare i limiti del pianeta. E quindi devi cambiare. Perché devi cambiare? Ci sono tanti problemi, ma quello più grosso è questo. Cioè stiamo creando, abbiamo creato un accumulo di CO2 nell'atmosfera che crea il cosiddetto effetto parabrezza, che è l'effetto serra. Quando l'altro giorno ad agorare ai tre è venuto un famoso divulgatore del CNR, ha portato le macchinine, ha fatto vedere l'effetto serra, eccetera. E cosa ci ha fatto vedere? Che il sole, come quando voi lasciate la macchina al sole l'estate, il sole entra, passa attraverso il vetro, il calore, ma non esce. Quindi la macchina si infuoca rispetto a... la temperatura è molto più alta rispetto a quella esterna. E quindi la concentrazione del CO2 nell'atmosfera produce questo. Quindi noi oggi abbiamo un'urgenza enorme e avete visto che i giovani percepiscono questa urgenza. Io stesso non so come rispondere di fronte a alcune reazioni un po' disperate, un po' forti, no? Avete visto la storia del Van Gogh, del quadro di Van Gogh, che comunque ci colpiscono. Cioè i giovani ci vogliono dare un messaggio. Dobbiamo fare qualcosa immediatamente perché il problema è molto molto grave. Avete visto quest'estate che è successo. Il riscaldamento globale produce che cosa? Produce ondate di calore, produce eventi climatici estremi e produce siccità. Tutte e tre queste cose le abbiamo viste, le continuiamo a vedere. Qui vedremo se l'uomo è Homo sapiens o no, dico io, no? L'Homo sapiens è quello che capisce, impara e invece noi stiamo vivendo, non so se avete visto il film Don't Look Up, bellissimo quel film, stiamo vivendo un mix di comunicazione. La comunicazione si ricorda della cosa solo il giorno dopo. C'è l'evento delle marche, l'emozione, la cosa, poi il giorno dopo ce lo dimentichiamo, facciamo delle cose che sono il contrario di quello che dobbiamo fare. Però l'altro problema, non vi ho fatto neanche la slide, ma lo sappiamo, questo sistema è molto incapace di distribuire bene quello che si produce. Quindi la ricchezza prodotta è enorme, pensate che ogni anno il PIL mondiale aumenta del 2-3% sempre, 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 ma questa ricchezza è distribuita malissimo. Le dieci persone più ricche del mondo sono ricche come metà del pianeta, la metà più povera del pianeta. Quindi dobbiamo imparare a redistribuire meglio e ovviamente a creare valore in modo diverso, che sia ecologicamente sostenibile. E l'ultima cosa però, che forse siamo sensibili solo noi a questo, ma dobbiamo parlarne, questa società è molto povera nella capacità di costruire senso del vivere. Quindi c'è un problema drammatico, quello della povertà di senso del vivere. Questo economista, Angus Deacon, che è un premio Nobel dell'economia, ha scritto questo libro sugli Stati Uniti, che si chiamano L'epidemia delle morti per disperazione, Deaths of Despair. Negli Stati Uniti, negli ultimi dieci anni, sono morte centinaia di migliaia di persone per overdose da opioidi. E il tema è quello della trappola di senso per vivere. Andando a studiare queste persone, ha scoperto una serie di fattori che creano questa trappola. Basso reddito, bassa istruzione, fallimento della vita di relazioni. In un paese come gli Stati Uniti, dove essere poveri è uno stigma, molto più che in Europa. Sapete che è stata fatta un'indagine, è colpa dei poveri essere poveri? Ecco, negli Stati Uniti il doppio delle persone risponde di sì. Quindi oltretutto c'è questo problema sociale. Ecco, quindi finito con i problemi, li conosciamo, è inutile che li ripetiamo sempre. Come si risolvono? Noi economisti civili siamo partiti dalla felicità. Siamo partiti dalla felicità. Perché oggi c'è una cosa bella, la felicità si può misurare. Abbiamo milioni di dati che ci dicono, dove chiediamo alle persone quanto sono soddisfatte della loro vita e se la loro vita ha senso. Qui c'è una cosa molto importante da dire sulla felicità. Abbiamo parlato pure stamattina, in quella mezz'ora che è stata una boccata di ossigeno. Io propongo che Don Gigi diventi il capo delle liturgie cattoliche in Italia. Perché la capacità di far entrare la vita nella liturgia certe volte non c'è, perché noi siamo molto conservatori. Purtroppo gli ambienti religiosi dicono se quella cosa l'abbiamo fatta dieci anni fa non si può toccare perché dieci anni fa si faceva così. Ma la vita va avanti. I nuovi poeti sono... insomma, chiudo la parentesi. Non voglio fare il mestiere di altri, ma do qualche input. Dicevo, la felicità. Io ne ho parlato tanto con una persona che voi sicuramente conoscete, Simone Cristicchi. Sapete che Simone ha scritto Happy Next, abbiamo parlato del libro a Rai 3, eccetera. E nelle interviste di quel libro è molto interessante perché si confondono due idee di felicità. Attenzione, se la felicità è considerata come le emozioni positive e negative, quella roba lì noi non la possiamo controllare, ed è meglio così. Le desolazioni e le consolazioni, come diceva Sant'Ignazio, sono come le nuvole del cielo d'Irlanda. Ci attraversano e hanno un significato, ok? Ma, quindi, non è quella la felicità di cui parliamo. La felicità di cui parliamo è il progetto di vita, la soddisfazione che deriva dal progetto che hai dato alla tua vita, il senso della vita. Quella roba lì dipende interamente da noi, dipende da noi, ok? Possiamo essere felici. Quindi la persona felice non è una persona che non è mai triste, che non ha mai... è una persona che ha una direzione, un senso. Il rapporto mondiale sulla felicità che misura queste cose dice beh, ci sono delle questioni base, reddito, salute, istruzione, libertà di iniziativa, assenza di corruzione, qualità di vita di relazioni e gratuità. Vedete che bello, qualità di vita di relazioni e gratuità. Noi gli studi sulla felicità ci servono come grimaldello per entrare nel riduzionismo dell'economia, in una visione sbagliata dell'economia che noi vogliamo contestare. Ecco perché ci sono molte... ma io una mattina mi sono svegliato, ho visto milioni di questi studi, mi sono svegliato e ho trovato la chiave. Ho detto guardate, la cosa più importante che c'è dentro questi studi si chiama generatività. Le persone, voi avete una cosa dentro di voi che vi dice se quello che fate nella vita è generativo o no. Più è generativo e più siete felici. È così la felicità. E le due frasi più belle che ci spiegano la felicità sono queste di Antonio Genovesi, che è stato il primo professore di economia, cattedra di Napoli, i tempi dell'illuminismo, eccetera, eccetera. E Joe Stuart Mill. Genovesi dice, vedete, lui parte da un discorso cinico, dice l'uomo fa il suo interesse e non ci prendiamo in giro. Però dice, quanto più si opera per interesse, tanto più, purché non sia pazzi, vedete, molto forte, si deve essere virtuosi. È il legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. Cioè l'uomo è un essere relazionale, è felice se crea relazioni e se riesce a fare qualcosa che percepisce sia un valore per altri esseri umani. Questa è la generatività. E Joe Stuart Mill dice una cosa simile, dice sono felici quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale, felicità degli altri, progresso dell'umanità, arte, occupazione, aspirando a qualche altra cosa trovano la felicità lungo la strada. Quindi la felicità come effetto indiretto di una vita ben spesa. E questa cosa qui della generatività, noi siamo partiti da qui e l'abbiamo approfondita. Chi è che ci parla della dinamica della generatività? Eric Erickson. Eric Erickson, famoso psicologo sociale, ci parla dei quattro verbi della generatività. Voi siete generativi se desiderate fate nascere, accompagnate, lasciate andare. Quindi il desiderio dice beh ma queste cose dice il professor Becchetti che hanno a che fa con l'economia. Beh il problema della disoccupazione giovanile, qual è la risposta? Abbiamo fatto un convegno sociologi-economisti. Alla fine una conclusione curiosissima, il desiderio. Cioè se un giovane non matura ai tempi della scuola, questo è il compito dei professori, un pallino, un desiderio, oggi non ce la fa. Il desiderio è quella molla che ti spinge a fare la fatica di risalire la scala delle competenze, imparare, ma devi essere mosso da un desiderio. Quindi desiderare, far nascere, è il momento più bello, creativo. E poi c'è il terzo verbo che è quello più faticoso, accompagnare, non bisogna far nascere, non accompagnare. E l'ultimo è molto importante, lasciare andare. Quindi anche il grande fondatore, il creatore dell'impresa familiare, se non crea le condizioni per la propria successione, se non comincia a lavorare e quindi lasciare andare è importantissimo. Voi vedrete che noi dell'economia civile siamo entusiasti del fatto che oggi abbiamo una platea di ragazzi. È la cosa più bella, lavorare per i ragazzi. Adesso è uscito un libro, Economio Francesco, con 40 ragazzi che fanno il glossario della nuova economia. Sono tutti i nostri ragazzi. Il nostro futuro sono loro. Io dico che certe volte siamo come quei naturalisti, sapete quelli che guardano quando si schiudono le uova delle tartarughe, le tartarughe che vanno in mare, no? Ecco, quell'idea della generatività. Ok. Detto questo, beh, dice queste sono fantasie. No, no, sono cose sorrette dai dati. Questo è una roba esoterica che non capirete assolutamente da questa slide, ma ve la dico io. Fondamentalmente questi indicatori vi dicono che c'è una correlazione positiva. Sono studi su più di 50.000 europei negli ultimi anni che fanno vedere che le persone generative, più vi allontanate all'asso orizzontale, più sono generativi. Generativo vuol dire creativo e con passione per gli altri. Quindi combinazione di creatività e passione per gli altri che determina il livello di generatività. Più sono generativi, più sono felici, si sentono in buon spirito, sono in pace e in calma con se stessi, sono positivi su loro stessi, sono resilienti, sono cittadini attivi. Ok? E questo è un dato sulla salute, è interessantissimo. Le persone che hanno un ricchezza di senso maggiore di vita si aspettano di vivere di più. È una correlazione tra aspettativa di vita e soddisfazione. Ma si inganneranno? No, non si ingannano perché in uno studio successivo facciamo vedere che i tassi di decesso sono più alti per le persone che hanno più povertà di senso del vivere. Ok? Quindi tutto questo ci porta a dire che da lì noi abbiamo fondato la nostra economia. Quindi noi vogliamo essere dei medici della società, dei medici. Quindi è come un medico deve avere un buon metodo, si inizia con l'anatomia e la patologia. Quindi dovete conoscere il mondo, no? Se no fate pure, fate degli sbagli, degli interventi sbagliati. Io tante volte vedo persone con grande passione, grande buona volontà, però non conoscendo bene l'economia fanno delle proposte che non funzionano. Ok? Io penso che sia così. Avere una visione di salute, l'abbiamo detto, la generatività e poi elaborare delle proposte e cure. Ma qui non basta, l'economia civile non fa solo teoria. L'economista civile esce dalla sua stanza e accompagna le storie interessanti, accompagna le buone pratiche, accompagna i segni di speranza. Quindi ho lavorato insieme a Tiziana Bonora che è qui con me, tanti anni e continuo a lavorare con Banca Etica, con Etica SGR, col Commercio Solidale. Poi vedrete, sono diventato un venditore di pentole, adesso alla fine vi parlerò pure, vi cercherò di vendervi qualcosa alla fine dell'intervento. Ok? Non aspiro volvere, ancora ce l'abbiamo. Allora, quindi noi abbiamo detto, cominciamo subito a concretizzare. Benissimo, la generatività è importante, quindi gli indicatori di benessere devono essere orientati alla generatività. Quindi col Festival dell'economia civile iniziamo a fare il rapporto sulla generatività delle province italiane. Quali sono i territori che favoriscono questa ricerca di generatività delle persone? Che poi è un modo di dire il bene comune oggi, no? E quindi noi studiamo, quindi territori dove ci sono pochi net, territori dove c'è più longevità attiva, territori dove è più facile creare organizzazioni sociali, imprese, quindi creare le condizioni per la generatività. E cominciamo a misurare queste cose. Lo diciamo cercando di far capire perché la generatività è meglio del PIL, ma è meglio anche del benessere multidimensionale, che oggi va di moda. Diciamo, puoi avere reddito, salute e istruzione, quindi sei a posto col benessere multidimensionale, ma se passi la giornata sdraiato sul divano non sei felice. Quindi l'ultimo miglio della felicità ha a che fare con il nostro metterci in moto per qualcosa che ci appassiona. E' espressività orientata a un fine, capite? E' questa la scintilla e la molla finale, che dobbiamo riuscire a cogliere. Nell'ultimo rapporto che abbiamo presentato al Festival a Firenze, adesso a settembre, in buona compagnia si chiamava il Festival, vedete la bellezza ce l'abbiamo messa pure noi, quindi siamo alla pari, al passo diciamo, e abbiamo misurato per i comuni, quindi la generatività dei comuni italiani. Ok, detto questo, quindi cosa vuol dire tutto questo nell'economia? Vuol dire cambiare quattro cose fondamentali dell'economia, che sono, primo, la persona diventa cercatore di senso, cercatrice di senso, l'ha detto anche il Papa Economio Francesco, e quindi è una persona capace di costruire relazioni, poi adesso vi dirò qual è la cosa. L'impresa è un imprenditore più ambizioso, che non guarda solo al profitto ma anche all'impatto. Quindi l'impresa, l'altro giorno ho fatto un bellissimo incontro con tanti manager che accompagno, e gli ho detto, guardate, è molto semplice, il lavoratore cerca senso nell'organizzazione in cui sta, e il senso è fatto da A più B più C più D più E, creazione di valore, impatto sociale, impatto ambientale, quello che impari, perché nella vita non bisogna mai smettere di imparare, e la qualità delle relazioni che vivono nell'organizzazione. Se voi la somma di queste cinque cose è forte, la persona dà il massimo in quell'organizzazione, si sentirà parte dell'organizzazione, eccetera. Tante aziende purtroppo hanno una somma negativa, perché A è forte, ma B, C, D, E vanno male. Quindi, poi, chiaramente, qual è il ruolo, come si risolvono i problemi? E qui è il discorso della cittadinanza attiva. Non è lo Stato che risolve i problemi, non c'è solo lo Stato e il mercato, c'è la cittadinanza attiva e ci sono le imprese responsabili, ci sono quattro mani. Quindi il nostro ruolo è fondamentale. E tutto questo, vi dico solo una battuta in più sulla questione delle relazioni. Qual è il segreto delle relazioni, almeno quello che abbiamo scoperto noi nella letteratura, ma anche nella vita pratica? La vita è questa roba qui. La vita sono incontri tra persone. La vita dovrebbe essere uno sport di squadra, ma spesso l'amalgama non c'è. Perché non c'è l'amalgama? Perché succede questa roba qui? Dove si incontrano e dicono il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani, sarebbe utile se io lavorassi per te oggi e tu domani dessi una mano a me, ma io non provo niente nei tuoi confronti e sono impure tu lo provi per me. Quindi io non lavoro per te, tu non lavori per me e i nostri raccolti vanno a male per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia. Quindi la vita è fatta di asimmetrie informative, contratti incompleti e le persone purtroppo non riescono a fare uno più uno uguale a tre, non riescono a affidarsi. Qual è la chiave per risolvere questo problema? Beh, dice la fiducia, ma la fiducia mica è facile, la fiducia è questa roba qui. La fiducia vuol dire che tu ti butti e ti puoi pure fare male se non c'è quello sotto, ok? E quindi qual è la cosa più importante per creare la fiducia? È quello che sta sotto lì, cioè quella persona che si dimostra meritevole di fiducia tanto che gli altri si buttano. Il pivot della fiducia è la meritevolezza di fiducia. E come avviene questa cosa della fiducia con quello che noi chiamiamo lo scambio di doni? Cioè la cosa chiave nella vita, George Akerlof ha vinto il premio Nobel su questo, è lo scambio di doni. Cos'è lo scambio di doni? Il dono è fare qualcosa in più di quello che gli altri si aspettano da te. Il dono crea gratitudine, stimola la reciprocità. Se uno mi offre tre volte il caffè, la quarta volta è un po' imbarazzato, no? Diciamo adesso offro io. Quello si chiama reciprocità. Quindi dono, gratitudine, reciprocità, qualità di relazioni. Quando ci sono relazioni di qualità, costa più violare la fiducia che rispettarla. E quindi si crea il circolo virtuoso. Ok? Ora, non abbiamo tempo di approfondire tutto. Detto questo, andiamo al concreto, al pratico. Qual è la strada per essere generativi nel mondo di oggi? Noi tutti insieme, non solo io che faccio l'economista. Allora, una chiave che noi abbiamo identificato si chiama voto col portafoglio. Che cos'è il voto col portafoglio? Io dico sempre al professor Becchetti, sulla mia lapide, quando morirò dovete scrivere, si è battuto per il voto col portafoglio. Ricordate, deve essere scritto questo. Che cos'è il voto col portafoglio? Il voto col portafoglio è questa roba qui. Cioè, ricordate come lo raccontavano quelli del fair trade, no? Dice, io non sono un supereroe ma un superpotere. Cioè, se voi ci pensate, il potere forte dell'economia chi è? Il potere forte dice le grandi banche. No, il potere forte dell'economia è il consumatore. Perché tutto ruota attorno a quello che noi compriamo. Immaginate per un attimo di essere i consumatori di tutto il mondo. Se voi da domani vi convincete di essere consumatori responsabili, cioè di premiare col vostro voto col portafoglio ogni giorno i prodotti più sostenibili, da domani il mondo è già cambiato. Abbiamo vinto. Perché vinceranno, perché resteranno le aziende, o tutte le aziende diventeranno aziende che creano lavoro dignitoso, tutelano l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi, e questa cosa che io dico, questo teorema che io vi faccio è inconfutabile. Se voi fate così, succede questo. Il problema è il se. Il perché non si fa. Perché non si fa? Beh, molto semplice. Ci sono quattro motivi. Anzi, cinque, una volta un francescano mi disse, c'è pure il quinto. Il primo è consapevolezza. Adesso non lo chiedo perché se no mi deprimo. Di solito chiedo, alzi la mano, quante conosco il voto col portafoglio. Vabbè, non lo voglio chiedere. Non mi voglio deprimere. Secondo, informazione. Dice, lo so, mi piace, vado. Ma, e che compro? Quindi, l'informazione. Chi mi dice qual è il prodotto più sostenibile, quello meno, posso fidarmi, washing. Terza cosa, il coordinamento delle scelte. Vedete? No, sta sopra. Il coordinamento. Vuol dire che se io sono il piccolo consumatore vado a fare la cosa da solo, soddisfazione personale, ma non ho effetto politico. Quindi bisogna mettersi tutti insieme. Tanti lo devono fare, non tutti, no, tanti. E prezzo? Beh, la prima cosa, c'è, professore, ma c'è fastidiscorsi, c'è l'inflazione, le bollette, le cose, lei ci parla di voto col portafoglio. Eh? C'è pure una salsa proprio arrabbiato uno, eh? Si è fatto, simulo il dibattito. E quindi la mia risposta è, abbiamo pensato a tutte queste cose e le abbiamo risolte. La quinta cosa è la pigrizia, questo economo francescano, la gente è pigra, non vuole cambiare abitudini. Abbiamo una risposta a tutto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto nascere una roba che si chiama NEXT. Intanto questo è il lavoro che facciamo con i giovani, vedete? Tanti PCTO, tanti lavori con i giovani, hackathon sociali, eccetera, eccetera. Uno dei lavori che facciamo si chiama Into the Label, molto carino. Cioè far vedere ai ragazzi che le aziende sono come dei partiti politici. Quando tu compri un prodotto, stai votando per un partito, stai votando per un'idea del mondo. E quindi studia un po' questi prodotti, poi vai con la scheda elettorale, questa è la scheda elettorale, vai al supermercato, barri la scheda e compri il prodotto. Abbiamo fatto così con i ragazzi, con l'urna, ok? Al supermercato. Altra cosa, questi sono i famosi cash mob, cioè diamo questa sensazione che se tutti insieme facciamo una cosa siamo potenti. Il cash mob è un mob dove tutti vanno a comprare un prodotto. E noi abbiamo lavorato sui cash mob dell'azzardo, anti-azzardo, quindi erano gli slot mob. Andare tutti a un bar a comprare prodotti di un bar che non aveva le macchinette, lo vogliamo premiare perché non ha le slot machine, ok? Qui potremo parlare a lungo di questa questione. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, e qui Tiziana sa di cosa parlo, e abbiamo fatto nascere il primo fondo di investimento etico che votava col portafoglio, 22 anni fa. Noi 22 anni fa dicevamo no fossil fuels, no fonti fossili, eccetera, eccetera. Quindi un fondo che compra solo le azioni dei titoli più responsabili. 22 anni fa, questo è stato molto bello perché oggi quasi tutti i fondi vorrebbero fare questo per quanto riguarda l'ambiente. Perché oggi il tema grosso è quello dell'ambiente. E come vedete questa cosa è cresciuta. 400 mila clienti, 22 anni, 7 miliardi, eccetera, eccetera. Allora, e ha influenzato il comportamento delle imprese. Guardate, noi facciamo parte con etica di questa rete molto bella, che è una cosa che hanno inventato due suori americane. Si chiama ECCR, Interfaith Center, Centro Interconfessionale per la responsabilità di impresa. E questo è il nostro simbolo, vedete? Quello è il toro di Wall Street, e c'è scritto, quello è il voto col portafoglio, fare leva sul potere degli investitori per catalizzare il cambiamento sociale. Questa è l'idea del lavoro. Ora, il problema però, quindi nella finanza, un pochino questa cosa ha camminato. Nel consumo è molto più difficile, perché siamo tanti, piccoli, eccetera. E allora che cosa abbiamo inventato nel campo del consumo? Abbiamo inventato questa cosa che si chiama Next, nuova economia. Cos'è Next, nuova economia? Perché la prima regola, se vuoi essere generativo, è mettere assieme generativi. Parlavo l'altro giorno con una ragazza che stava a Economio Francesco, ho detto, vedi, se tu te ne stai a casa da sola, ti senti, ma io sono una strana, perché qui mi guardo intorno, sono solo io che ho queste, tu devi collegarti con gli altri generativi, quindi connettere le persone generative. E quindi noi abbiamo messo assieme 55 realtà del nostro paese, i sindacati, le associazioni di consumatori, la Lega Ambiente, le ACLI, l'ARCI, tutti questi qua, per lavorare sulla responsabilità di impresa. E per fare cosa? Vedete, siamo partiti da questa idea, il dialogo, la relazione, che è sempre la soluzione di tutto. Io dovunque vada, dici, ma dov'è la soluzione? La relazione è sempre la soluzione. Quindi creare una relazione con le aziende, che vogliono fare un percorso verso la sostenibilità, attraverso degli strumenti di misura, che sono dei questionari di autovalutazione, che noi portiamo avanti. E vedete, quella è la mappa di tutte le realtà, che stanno facendo questo percorso con noi. Poi abbiamo cominciato a farlo con i comuni, eccetera, eccetera. Da Next nasce l'ultima cosa, e qui arrivo alla mio ruolo di venditore di pentole, vediamo se riesco a fare il passaggio, che si chiama Giosto. Cos'è Giosto? Giosto è un sito online che vende i prodotti della economia civile. Ecco, qui purtroppo non ci sono le cose, per ritorno alle slide, ma è molto bello perché qui ci sono le storie di 70-80 folli produttori del nostro paese che fanno che cosa? Che, diciamo, fanno economia ma creano senso, significato, valore, no? È molto bello. Per esempio, noi vendiamo tutti i prodotti dell'economia carceraria. Made in carcere, cotti in fragranza, Dolce Vasioni, tutti questi. Si divertono a darsi questi nomi. Non metto bocca su questo, non decidiamo noi come si vogliono. Siamo chiamati tutti così. Quindi, e sono carcere di Verbania, carcere di Napoli, carcere di Lecce, carcere di Palermo. Guardate, credo che nella... Quindi un'economia ricca di senso, e io credo che lì c'è veramente il segreto della ricchezza di senso. Perché io cosa ho scoperto? Secondo me è lì proprio nel reinserimento lavoro di un ex detenuto, di una persona con disabilità psichica. Perché? Perché lì c'è l'incontro tra il cosiddetto normale e la persona che ha i margini, che è scartata. Questo incontro è vincente per entrambi. Perché il normale trova la massima ricchezza di senso nel vivere, che è dare un'opportunità a una persona che è in difficoltà. E la persona che è in difficoltà trova l'occasione di risentirsi nuovamente utile e protagonista nella vita. Perché guardate che la soddisfazione e ricchezza di senso di vita non è ricevere un'elemosina, è essere nuovamente utile, sentirsi nuovamente utile. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Anche c'è una certa visione di cattolicesimo. Considera il povero il terminale dell'elemosina. No, noi dobbiamo riscattare. Dobbiamo riscattare. Quindi, economia carceraria, disabilità psichica. Anche qui i nomi, felici da matti, fuori di zucca. Ragazzi, non so che dirvi. Sono quelle fattorie sociali che vendono prodotti favolosi, buonissimi, ma che hanno una quota importante di persone con disabilità psichica dove il budget di salute è la strada per la riscosta. Cioè non stare legati a un letto, imbottiti di farmaci, ma fare agricoltura. E attraverso l'agricoltura migliorano moltissimo. Si sentono più attivi, protagonisti, eccetera. Poi ci sono i prodotti di Libera, quindi siamo anche partner di Ciotti, di Don Ciotti, che sentirete oggi pomeriggio. Tutti i prodotti alle legalità, l'inarello, quel bio. Ecco, capite perché sono diventato venditore di pentole, no? E qui, ma cose di una qualità, la passata di pomodori secchi, il pesto, il rucola e bio. Trovate una varietà pazzesca. Quindi il tema qual è? Possiamo votare col portafoglio, ma soprattutto risolviamo anche alcune cose. Questa è l'altra cosa che voglio far vedere, che si chiama la marca del consumatore. Ed è una storia molto bella, è uno dei nostri prodotti, ma è una storia che nasce in Francia. In Francia, i consumatori si accorgono che i produttori di latte, perché l'agricoltura è sempre uguale in tutto il mondo, nel sud, nel nord, è un sistema produttivo dove chi sta in basso è schiacciato. Il produttore della materia prima lo trattano proprio come, ok? E molto spesso deve vendere a un prezzo che non riesce a farlo stare in piedi. Sapete che in Sicilia ha un sacco di alberi, non si raccoglie la frutta, eccetera, eccetera. Quindi, cosa hanno... E si era visto che in Francia i produttori di latte avevano tassi di suicidi più alti della media nazionale, eccetera. Hanno fatto, sono andati dai produttori, hanno detto, ma voi di quanto avete bisogno? E la risposta è stata sconvolgente. Abbiamo bisogno di 5 centesimi per litro, in più, come prezzo. E allora sono detto, beh, facciamolo insieme il prodotto. Si sono messi a costruire il prodotto assieme. È nata la marca del consumatore. Com'è costruito questo prodotto? Questo prodotto è costruito offrendo alle persone, a voi, adesso potete andare lì e fare l'olio d'oliva, stiamo facendo l'olio d'oliva in questo momento. Potete andare a scegliere. Volete l'olio fatto in Italia? Lo volete con più acidità, meno acidità? Voi scegliete tutto. E mentre scegliete si vede il prezzo. Si vede il prezzo che cambia. Quindi vi rendete anche conto che l'olio dall'Italia costa, passa da 5 a 9 euro, 10 euro, eccetera. Chiudete il questionario, si manda il questionario. A un certo punto finisce la votazione e nasce il prodotto. Questa roba qui in Francia oggi fa 300 milioni di litri di latte venduti. 6% di quota di mercato. Il latte del consumatore in Francia. Da noi c'è la pasta, la passata di pomodoro. Ma quello che volevo far vedere, vedete che c'è scritto lì 1,20 euro di più all'anno. Quanto costa questa passata di pomodoro di più rispetto a quella che trovate al supermercato normale? 1,20 euro in più all'anno. Quindi parametrata su quante volte voi comprate. Quindi anche il problema, il tema del prezzo è abbastanza risolto. Adesso vado sulla chiusura perché sto parlando da continuo. Quindi capite che oggi abbiamo tutti gli strumenti per essere generativi. Noi tutti. Quindi continuiamo a fare il nostro lavoro. Ma votiamo col portafoglio, consumo responsabile, risparmio responsabile. E social media, molto importante. Diventiamo attivisti della sostenibilità sociale. Perché oggi purtroppo, volenti o non volenti, i social media sono un luogo dove si decidono anche le opinioni pubbliche e tutto quanto. Quindi bisogna starci e prendere gli schiaffi. Perché lì ti prendi un sacco di... L'altro tema importante è che come si fa a votare col portafoglio per l'energia? Perché noi siamo molto concreti. In questi giorni io mi sono, diciamo, quando parli in televisione, eccetera, non è che puoi parlare... No, non è che posso fare i discorsi che faccio a voi. Si parla dell'emergenza. Dice, professore, le bollette? Dice, beh, scusate, noi da vent'anni stiamo dicendo che bisogna... Io ho detto che il programma d'energia del nuovo governo deve essere un programma ungarettiano. Due parole, basta. Non bisogna scrivere... Due parole. Indipendenza energetica. Questo è il programma. E in poesia, Ungaretti, mi illumino d'immenso. Dove? Immenso uguale non esauribile, uguale rinnovabile. Mi illumino con l'energia rinnovabile. Quindi questo è il programma. No? E perché questo programma è già la risposta? Perché esiste già l'Italia liberata. Esistono persone che cinque anni fa, dieci anni fa, hanno cominciato a fare la comunità energetica. La comunità energetica vuol dire che hai i pannelli, vuol dire che l'energia te la produci da solo, vuol dire che non paghi la bolletta del gas. Fine. Le imprese... Ma sapete quante imprese conosco io che autoproducono la loro energia? E hanno trasformato un costo in una risorsa? Capite? Quindi abbiamo gli strumenti per liberarci. Ora, ci si può liberare individualmente, però devi avere la casetta con la cosa, lo fai da solo. Adesso basta fare la dichiarazione. Però lo puoi fare con le comunità energetiche, che stanno nascendo in varie parti del paese. Ci sono già tanti esempi, San Giovanni a Teduccio, Gubbio, i comuni sardi. Allora, perché dobbiamo fare questa cosa? È molto importante da tanti punti di vista. La dobbiamo fare primo per il clima. Perché le fonti rinnovabili sono quelle che producono meno CO2. Andiamo a vedere qui la CO2. E la faccio vedere. Ecco qua. Questa è la differenza a destra. Vedete quanta CO2 produce il carbone, il petrolio, il gas. Sotto avete il sole, il vento e il nucleare. Sono quelli che producono. Quindi, per il clima, chi vince? Le rinnovabili. Dice, beh, pure il nucleare va bene. No, il nucleare non va bene, perché se andate a guardare il prezzo, il prezzo del, diciamo, quanto vi costa l'eolico e il fotovoltaico, molto meno del nucleare. Perché il nucleare costa tantissimo. È una risposta il nucleare. Quando c'è stata delle elezioni, uno, Tozzi, scherzando, ha detto, sì, però mi devi dire, prima delle elezioni, in che comune vuoi fare la centrale e dove vuoi mettere il deposito unico delle scorie. Ok? E quanto ci vuole per fare una centrale? Vent'anni. Vent'anni. Quanto ci vuole per mettere un pannello sopra il tetto? Cinque mesi. Quattro mesi. Ok? Quindi capite che stiamo parlando del nulla. E allora qui, io ho scritto un altro libro, poi si chiama Rinnovabili subito, militante, eccetera, dove spieghiamo con due ingegneri, per filo o per segno, smontiamo tutte le obiezioni. Quali sono le obiezioni? Ci vuole un sacco di spazio. Non ci vuole per niente spazio. Vi faccio vedere un esempio. Ci vuole un... Ecco, il libro è questo qua. Un po' di pubblicità anche a questo. Ci vuole tanto spazio? No. Questo è un servizio che è andato a presa diretta. È un'impresa agricola che fa, vedete, agrumi a vista d'occhio e sopra avete il tetto, che sono pannelli fotovoltaici. Quel tetto riduce l'evaporazione dell'acqua, quindi ha anche vantaggio per l'irrigazione, eccetera, eccetera. Poi, questo è San Giovanni a Teduccio, che è la buona pratica, fondazione con il Sud, sostegno alle bollette delle famiglie che sono più in difficoltà, eccetera, eccetera. Altro problema, l'intermittenza è, ma il sole non c'è sempre, il vento non c'è sempre, benissimo. La combinazione di sole, vento, idroelettrico e accumuli, batterie, serve a risolvere il problema. Ieri la Grecia era a 100% fonti rinnovabili, cioè è stato 5 ore del giorno in cui tutta la Grecia era solamente alimentata da energia da rinnovabili. Quindi tecnicamente è possibile, funziona. Una settimana fa la Danimarca, 120% c'era scritto, cioè l'eolico della Danimarca soddisfava tutta la produzione del paese e il 20% era sportato in altri paesi. Quindi stiamo andando verso quel mondo, purtroppo l'Italia non è quella che sta andando più rapidamente. In questo momento Portogallo, Spagna, Grecia, Germania, paesi scandinavi vanno molto più forti di noi. E questo, ripeto, vuol dire vantaggio da un punto di vista del clima, dei prezzi e dal punto di vista della libertà, l'indipendenza. Basta dipendere da qualcuno, da qualche dittatore sanguinario che ci apre il rubinetto. Ok? E quindi abbiamo fatto questo lavoro. Ora, qui ci sono tante belle cose di cui potrei parlare, ma direi che tra l'altro anche l'inflazione che noi stiamo vivendo in questo momento, che sta erodendo il nostro potere d'acquisto, deriva proprio dall'energia, dal prezzo dell'energia. Qual è il modello quindi di economia verso cui dobbiamo andare? Ecco, qui possiamo fare un'ultima riflessione finale, poi magari se mi può fare qualche domanda, eccetera. Io approfondisco in tutte le direzioni che vuoi. Dobbiamo andare verso un'economia circolare. Che vuol dire l'economia circolare? Vuol dire che dobbiamo, perché noi abbiamo bisogno di creare valore economico. Abbiamo la povertà, la disoccupazione. Non possiamo fare la decrescita, ma dobbiamo farlo in maniera sostenibile. Crescita non vuol dire che dovete fare più cannoni, più burro, più prodotti. Non dovete produrre più cose, crescere. Crescere può essere pure venire a Romena, oppure pagare, diciamo, qui l'ospitalità e tutto quanto. Cioè, dobbiamo creare valore economico ambientalmente sostenibile. Dobbiamo disallineare la creazione di valore dalla sostenibilità ambientale. Ok? Se io riaddo... Adesso non vi sto dicendo che è una cosa bella in assoluto, ma se io raddoppio gli abbonati di Netflix, sto creando valore economico, ma non sto inquinando niente. Sempre se invece c'è più gente che guarda la televisione. Ok? Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare la quota di cose che sono prodotte da materia già esistente. Quindi più materia seconda, il riciclo. Ok? Questo ci serve anche, per esempio, per uno dei problemi delle rinnovabili. Perché c'è chi dice, adesso dipenderemo dalla Cina, i materiali rari, i minerali... No. Il 90% dei materiali dell'energia rinnovabile è riciclato. Quindi noi non dobbiamo, per fare il nuovo pannello, al 90% del materiale, andare a prendere il litio, quello che sia il silicio. Ma riusiamo quello che già c'è. Aumento della condivisione. Una cosa molto bella dell'economia circolare è che si passa, per alcune cose, dal concetto di proprietà al concetto di condivisione. Il tema è... Dice, ma noi... Voi avete il trapano a casa? No? Dice... Sì, no. Quante volte... Ditemi quante volte avete usato il trapano negli ultimi dieci anni. Vi serve avere il trapano nel cassetto? Boh. Quindi... Ma se il portiere del palazzo avesse il trapano, lui, glielo chiedete quella volta ogni dieci anni che vi serve? Sarebbe la stessa cosa. Quindi, vedete, lo sharing vuol dire meno prodotti, ma più condivisione. Perché quello che conta, scrissi anche la voce al dizionario indegnamente, al dizionario di teologia, proprietà, quello che conta, la proprietà nasce per dare una certa sicurezza alle persone, eccetera, eccetera. Ma ciò che ci dà sicurezza, in realtà, oggi quello che conta è l'accesso. Voi non siete proprietari di internet. Però se il telefonino non prende, vi piglia il panico. Quindi quello che conta è l'accesso. Quindi dobbiamo creare questo mondo dello sharing, della condivisione e dell'accesso. E quindi, aumento del fattore di carico, durata lunga dei prodotti, fine vita, quindi tutto il tema del riciclo. Ok? Quindi, per chiudere il mio discorso, l'economia civile dice la felicità è generatività. Ma oggi abbiamo tante vie per essere generativi, quindi possiamo risplendere, come dice il titolo del nostro incontro. Abbiamo tante opportunità per farlo e dobbiamo, ripeto, mettere in moto questi percorsi. L'ultima cosa, ecco, che volevo dirmi, meno male che non me la sono scordata, è questa. Possiamo fare pure un discorso politico? Ah, mo' che dice questo? Facciamo un discorso politico. Qual è il discorso politico? Ma sarà un discorso politico particolare, che abbiamo fatto anche adesso, è questo. Qual è la vera forza di un paese? In particolare, noi siamo i primi in Italia nel mondo su questo. La forza del nostro paese si chiama il pilastro del civile. Il civile, la terzo settore, ma non solo. La cittadinanza attiva romena, tutte quelle organizzazioni di cui vendiamo i prodotti. Noi abbiamo un'enorme ricchezza in questo paese, pensate le casse rurali nate nelle parrocchie, le cooperative storiche e adesso le fondazioni di comunità, le cooperative di comunità, le cooperative sociali di tipo A e di tipo B. Abbiamo una ricchezza enorme, è il civile la sussidiarietà. Siamo noi che risolviamo i problemi, noi che siamo sul territorio, noi che siamo la prossimità, l'esserci. Quindi, il civile è il pilastro. Se non c'è il civile, c'è il sovrano, il leader illuminato, il leader umorale, questo qui, e i leoni da tastiera, rancorosi. Questo è quello che resta. Quindi, noi dobbiamo, il nostro compito politico è rafforzare il civile. E che può fare il civile di più oggi? Abbiamo parlato proprio a Bertinoro, prima di venire qui, con tutti i capi del forum del terzo settore, eccetera. Che può fare il civile oggi? Il civile oggi non può diventare direttamente un partito, che sarebbe un casino, no? Cioè, una commissione, le attività, diventeresti subito bersaglio, parte. Ma può creare lo spartito. Non un partito, ma uno spartito. Il civile deve fare lo spartito. Perché? Perché in questo momento ha un vantaggio culturale. Guardate che il politico passa il 90% del tempo a gestire potere, a perdere energie nella lotta con quello vicino. Chi ha dato i 19 voti alla russa sono stati quelli, sono stati quegli altri. Letta va alla manifestazione e poi se ne va perché arriva Calenda. Vivono in questo mondo. E quindi hanno bisogno di idee. Ok? Quindi noi arriviamo e diciamo, cari, siamo sui territori, siamo vicini alle persone. Quel lavoro che facevano i partiti prima, che non ci sono più, di cinghia di trasmissione tra la società e gli eletti, no? Attraverso le sezioni, adesso lo facciamo noi. Questo è lo spartito. Lo spartito è un... E questo... qual è lo spartito? È un glossario. Lo spartito è un glossario. Cittadinanza attiva, inclusione, prossimità, coprogettazione, amministrazione condivisa. Ti diciamo tutte le parole consumo responsabile. Tutto quello che bisogna fare. Ok? E cominciamo a lavorare facendo delle proposte politiche. Per esempio, voi sapete che prima delle elezioni la Costituzione italiana è cambiata. Diciamo, come si fa? I variettili saranno fatti la guerra? No, no, la rete di Asvis ha proposto di mettere generazioni future e sviluppo sostenibile nella Costituzione e tutti i partiti hanno votato all'unanimità. Vedete che il civile conta e come. Quindi, obiettivo futuro, lanciato, ne sentirete parlare, nascono in questo momento gli stati generali del civile. Il civile si riunisce, sembra la rivoluzione francese, fa gli stati generali, è una rivoluzione, fa gli stati generali e dice questo è lo spartito. E cominciamo una nuova fase. Bene, grazie. Sicuramente, sicuramente mi sentite, sì. molti di voi avrebbero voluto approfondire tanti aspetti di quelli che hanno sentito. Non so se intuisco questa esigenza. Allora, vi posso dire che richiameremo sicuramente il professor Becchetti in una circostanza in cui avremo più tempo, spazio, magari sarebbe bello incrociare le tue esperienze con quelle dei ragazzi di Economio Francesco, insieme anche a Luigi Nobruni, che è il nostro grande amico. Ma vi garantisco che questo strumento, la rivoluzione della cittadinanza attiva, contiene tante delle risposte alle domande che avreste voluto fare a lui. È un libro molto piano, molto semplice, quindi anche quelli che hanno dato l'esame di Economia Politica come ultimo perché speravano nella clemenza della Corte come il sottoscritto, lo possono capire. Ho solo un dubbio che ce ne sia una sufficienza, ma in ogni caso è un libro pubblicato, a proposito di sostenibilità, dall'EMI, editrice missionaria, lo potete trovare, vi garantisco che è un ottimo strumento. Abbiamo anche alcune copie del libro sulle energie rinnovabili che prima ci ha mostrato il professor Becchetti, sono arrivate in tempo, per fortuna. Però io a questo punto, in questi minuti che ci restano... Aggiungo solo su questo che poi avete for free, gli articoli su Avvenire, gli articoli sul Sole, li trovate e poi ovviamente il lavoro H24 si social, ecco io lì sarei molto contento che voi diventaste, diciamo, aiutaste a creare un pochino di bellezza in quel mondo che è un mondo molto difficile, molto pettegolo, molto... Senti, per onorare però fino in fondo il tuo mestiere di venditore di pentole, ci ricordi il sito dove si possono fare questi acquisti? Il sito si chiama Gioosto con due O, non so come si pronuncia, l'abbiamo fatto apposta, qualcuno dice giusto perché in inglese due O... Gioosto con due O, e lì trovate tutti questi straordinari, trovate Libera, trovate Casa do Menor, che è un missionario che è andato in Brasile, che lavora con i bambini di strada, eccetera, eccetera, noi tutti... è bello vedere le storie dei prodotti, c'è una produttrice famosa della Calabria che ha creato Bergoglio, dici che è? Che è Bergoglio? Bergoglio è il... è lo sgrassante all'olio di bergamotto, e lei ha scritto una lettera al Papa chiedendo al Papa se si dispiaceva di questa cosa o se poteva... e il Papa ha detto no, no, vai avanti, perché tu fai reinserimento lavoro e tutte quelle cose che ci siamo detti prima, ok? Quindi Bergoglio, sgrassate i vostri piatti con Bergoglio. Ma è curioso perché... Non mi ricordo, non dell'introterra però, non è proprio... I prodotti calabresi ne abbiamo tanti, eh, un signor... Abbiamo Coel Bio, Vincenzo Linarello, tutto che lui fa, sì, mermellate buonissime, mandarino, bergamotto, abbiamo un sacco di prodotti, anche calabresi. Allora, ho una domanda un po' più articolata, di solito quando si hanno queste figure di studiosi, docenti universitari, alla fine la domanda che viene inevitabile è di andare un po' sul concreto, invece sul concreto lui c'è stato sempre e quindi ora dobbiamo allargare un po' il tiro. Lo farò con la domanda successiva. La domanda su Keynes. No, però la curiosità, e tu sei anche consulente, non l'ho detto, nell'introduzione, sei stato consulente per il Ministero della Transizione Ecologica. Ecco, ma nei palazzi queste cose, sei riuscito a farle scivolare? Sono arrivate? Questa è la domanda più triste che mi fai. Allora, cerchiamo di rispondere in modo... Beh, se volete poi una risposta andate su Twitter e leggete l'articolo di Edoardo Zanchini e anche il mio commento. Allora, il mondo politico è splendido fino a livello comunale. Cioè a livello comunale, guardate, cioè voi volete cambiare il vostro comune? Fate una lista civica, parlate ai cittadini, vincete, ok? Cioè c'è ricambio, noi abbiamo tanti ambasciatori dell'economia civile, sindaci, abbiamo i nostri sindaci, Latina Benecomune, Assisi Benecomune, delle cose molto belle. ieri Bologna, Bologna sta facendo delle cose, adesso ha un gruppo di ragazzi spettacolari, il sindaco è giovanissimo, questa cosa che l'amministrazione condivisa è fatta, è Bologna. Salite, le cose peggiorano. Peggiorano per tanti motivi, peggiorano perché c'è una comunicazione infernale, che è così, peggiorano perché la struttura è complessa, per decidere qualcosa ci vogliono mille e mille sì, perché la burocrazia, perché i meccanismi dei ministeri sono complicati, la segreteria tecnica, il capo di gabinetto, i direttori generali che stanno sempre lì, guardate, è molto molto complicato, però bisogna starci, e quindi io ci sto. Per esempio il lavoro con il Ministero delle Finanze, per fortuna a un livello più sotto, quindi col direttore, quindi non è un lavoro politico, e abbiamo collocato i primi BTP verdi del governo italiano, BTP Green, quindi sono dei fondi, delle obbligazioni, con i quali noi ci impegniamo a usare i soldi che raccogliamo per progetti sulla transizione ecologica, e dobbiamo rendicontare che li usiamo solo per quello, quindi tutto il problema del territorio, di sesto idrogeologico, pannezza, tutte cose che abbiano sostenibilità ambientale, qui quello è un bel lavoro. Più si va su è più difficile, in particolare io devo dire che quest'ultimo governo, ma l'ho scritto, ha fatto molto male sull'ambiente, molto male, perché sono un anno che aspettiamo i decreti attuativi sulle comunità energetiche, e abbiamo fatto un appello, perché questa idea di spingere i cittadini e le imprese a autoprodurre energia doveva arrivare prima, perché le aree idonee delle regioni, è un'altra cosa che va fatta, non è ancora arrivato, e perché gli altri paesi stanno andando molto più veloci. Ripeto, poi invece il governo è stato eccezionale, sulla gestione del bilancio, Draghi è il numero uno, quindi bisogna, io dico che io in politica bisogna sempre non essere ideologici, ma stare sulle cose, sui problemi, quindi nessuno è buono o è cattivo, come diceva Van Gogh, non c'è il nero assoluto, dicevamo stamattina, ma bisogna stare sui problemi, quindi su quella cosa è andata male, quindi io spero che migliori adesso, non lo so, speriamo, Noi faremo di tutto, faremo di tutto, da dentro e da fuori, per cercare di ottenere risultati migliori. Ecco, in questa situazione, la domanda non è sull'economia keynesiana, ma proprio su quello che stiamo vivendo, perché i grafici che ci hai fatto vedere, immagino poi, quando arrivano al 2020, 2021, comunque hanno, in tutti i casi, un momento di cambiamento, totale, perché sono successe delle cose epocali, e noi abbiamo attraversato, stiamo attraversando questo cambiamento, che è un cambiamento, ovviamente non soltanto economico, ma in cui l'economia ha un ruolo decisivo, e tu lo scrivi, e allora aiutaci a dire meglio, gli effetti della pandemia, e gli effetti della guerra, dal tuo punto di vista, anche per farci un'opinione, che ovviamente, più che come consumatori, ci chiama in causa, come cittadini. Allora, come diceva Tuscidide, tapatemata matemata, le tragedie insegnano, purtroppo, la pedagogia delle catastrofi, spesso l'umanità, è una delle poche cose che ascolta, e quindi, la pandemia, che è stata una, è una catastrofe, dal punto di vista umanitario, eccetera, però, ci ha portato, due cose buone, ci ha portato, un'Europa più unita, quindi il PNRR, questo impegno, che quindi noi ci siamo ritrovati con più risorse, stranamente, nel momento peggiore della nostra storia economica, rispetto a quelle che avevamo prima, e quello è stato un momento, una primavera dell'Europa, e poi ci ha portato, questa cosa controversa, ma secondo me molto importante, abbiamo, che è questa cosa dello smart work, cioè, noi abbiamo scoperto, che è possibile fare le cose, anche a distanza, abbiamo scoperto, che esistono tre tipi di relazioni, nella vita, c'è la relazione faccia a faccia, in presenza, che è sempre la più bella, noi qui, ok, c'è la relazione faccia a faccia, a distanza, che è il webinar, e c'è la relazione, interattiva, sulle chat, ok, ora, la combinazione di queste tre cose, rende la nostra vita, per esempio, voi, dice, beh che bello, siamo stati a Romena, dice, ma possiamo tenerci in contatto? Dice, beh sì, magari facciamo una lista WhatsApp, abbiamo una chat, quindi, questi tre strumenti combinati, ci aiutano, per esempio, la possibilità di combinare, vita di lavoro, e vita di relazioni, attraverso l'opportunità dello smart work, è molto importante, sapete che dopo la pandemia, è successo il fenomeno, che si chiama, di Great Resignation, cioè molta gente, se n'è andata dal posto dove lavorava, se non gli offrivano l'ibrido, ci sono persone che fanno, si chiamano Nomad Worker, tanti giovani, vanno in giro per il mondo, e continuano a lavorare con la loro azienda, io ho un giovane, giovane, non è giovane, un padre di famiglia, molto bravo, un ingegnere turco, che è stato, ha fatto il dottorato con me, che è scappato da Erdogan, è venuto a vivere in Italia, ha una moglie, ha due figlie, e finito il dottorato, non trovava lavoro, perché non parla molto bene l'italiano, molto bene l'inglese, ma non molto bene l'italiano, e non sapeva cosa fare, dice, ormai le mie figlie stanno qui, fanno la scuola qui, non le posso portare via, eccetera, ha trovato un lavoro con un'azienda, 100% a distanza, quindi, dobbiamo demonizzare, sono cose che ci danno nuove opportunità, se le sappiamo usare, ovviamente, cioè noi lo dobbiamo usare bene, io ho tre chat di esperti ambientali, e ho la totalità delle informazioni, di quello che succede nel mondo, impressionante, c'è una rassegna stampa, quotidiana, quindi, ecco, questo secondo me, è un buon, io cerco di vedere sempre le cose buone, no? È una buona cosa, l'altra cosa qual era? La guerra, la guerra è, guardate, è difficile proprio, è difficile proprio, io, è una delle cose di cui, ho parlato meno, e nel senso che ovviamente noi vogliamo la pace, e abbiamo fatto una manifestazione a Roma, a Castro Pretorio l'altro giorno, con un ragazzo che, che si chiama Angelo Moretti, che è uno dei nostri, che tra l'altro è uno di quelli che ha fondato Giosto, che io dico è il nuovo Luther King lui, lui ha rilanciato l'idea di Alex Langer, corpi civili di pace non violenta, cioè il tentativo, nel mondo più difficile, molto più difficile il voto col portafoglio, cosa può fare la società civile per la pace? E lui cosa ha fatto? È andato a Kiev, ha creato delle relazioni con i comuni lì, con le persone lì, ha creato dei gemellaggi, ha fatto delle iniziative di solidarietà, ha portato i ragazzi qui, insomma ha creato una relazione tra i comuni del Beneventano, lui è di Benevento, e i comuni di Kiev, e lui dice, bisogna metterci la carne, bisogna starci, se noi ci stiamo possiamo aiutare la soluzione. La soluzione è difficilissima, la soluzione è difficile perché, da una parte c'è il discorso della giustizia, il discorso di un popolo che vuole combattere un oppressore, quindi ritornare ai confini di prima dell'invasione, eccetera, dall'altro c'è tutto il problema della guerra, c'è il problema che di fronte c'è una potenza nucleare, che quindi bisogna stare attenti, c'è il rischio, e quindi guardate, ecco lì la ricetta, cioè la ricetta sarebbe il cessato del fuoco e il ritiro dalle zone occupate. Per quanto riguarda invece gli strumenti economici che sono stati messi in atto per cercare di fermare la guerra? Le sanzioni sono sempre una cosa molto controversa, nel senso che sicuramente le sanzioni in parte indeboliscono, perché adesso mancano pezzi di ricambio, un pochino indeboliscono il paese, non moltissimo secondo me, io quindi non sono contrario alle sanzioni, però sicuramente la guerra la stiamo pagando economicamente, la stanno pagando economicamente lì, c'è un'inflazione molto alta, il 30%, ma non parliamo dell'Ucraina, che ovviamente è chiaro che sta pagando il prezzo più alto, sia di morti che economico, e la stiamo pagando anche noi per il discorso del gas e dell'inflazione, quindi la guerra la paghiamo tutti ed è una tragedia che paghiamo tutti quanti, è una tragedia, ripeto, per la quale è chiaro la soluzione è la pace, ma non sappiamo in questo momento qual è la via migliore per arrivare a questa soluzione, o meglio, ci sono opinioni diverse anche tra di noi, anche tra i cattolici, io lo vedo ogni giorno, ci si scontra tantissimo su questo, quindi la manifestazione è più o meno, quindi è una cosa, io quello che ti posso dire, è una piccola cosa questa, la direttrice del nostro master di cooperazione e sviluppo, che facciamo da vent'anni, è ucraina, si chiama Olga, e abbiamo creato una borsa di studio per studenti, in realtà è stato difficilissimo avere studenti ucraini, perché c'è problema anche con il riconoscimento dei titoli, distrutto tutto, e poi soprattutto non c'è stata questa migrazione di uomini, gli uomini sono rimasti a combattere, le donne poi ritornano, e quindi abbiamo virato sull'Afghanistan, abbiamo due ragazze, siamo molto contenti di avere due ragazze afghane, che senza dover pagare nulla, insomma proseguiranno con noi, e quindi ecco, però non ti so, ecco più di questo, non ti so dire. Permettimi prima di concludere, poi ti farò una domandina finale, per ritornare, come dire, alla chiave di lettura, anche fiduciosa e positiva di quello che possiamo fare, però una cosa su di te, cioè io immagino che queste persone, si tratta di economista, ma tutta questa passione, tutto questo impegno, capite quanto a dispegno anche di energie, comporti attivare tutte queste realtà, cosa c'è dietro, cioè come nasce questo tuo impegno? Beh, io sono scuola dei gesuiti, quindi i gesuiti ti bombardano, il discernimento, il discernimento, e quindi io mi sono sempre domandato, mi sono sempre fatto domande da ragazzo, come era possibile, e poi diciamo, io dico sempre ai ragazzi, due cose, devi avere l'orizzonte e la piccozza, l'orizzonte, chiaro, che è quello della generatività, la piccozza perché nella vita nessuno ti stende da peri rossi, ti devi proprio, sai come il detenuto che si scava il cunicolo per scappare dalla prigione, quindi devi costruirti pian piano questa via verso la generatività, perché qualunque struttura, le strutture, sono state fatte da quelle delle generazioni prima, magari per loro era una conquista quella, ma noi dobbiamo smontarle e rifarle, perché sono strutture che non sono adeguate a raccogliere quel di più di senso, di ricchezza che vogliamo noi, e quindi dobbiamo fare un lavoro, all'Economia Francesco ci siamo incontrati con tutti quelli che facevano comunicazione e formazione, era tutto un ritornello, il sillabo, il sillabo, e ragazzi il sillabo dovete cambiare, cioè siete professori, sarete arrivati con sillabo piano piano, io il sillabo dell'economia l'ho cambiato, io l'economia faccio questa roba qui, quindi gli dico, guardate il vecchio modello è questo, il nuovo modello è quest'altro, quindi gli insegno tutte e due, e quindi il sillabo si cambia, ecco quindi no, io ho questa motivazione interiore, la fede mi aiuta ovviamente, mi dà munizioni, la vita spirituale ci dà questa, noi lavoriamo assieme, credenti e non credenti, ecco io trovo che la differenza del credente è che il credente ha una speranza in più, magari il non credente a un certo punto può arrivare a un momento di disperazione, perché se il non credente mette tutto il suo coso nel vedere oggi il frutto e non lo vede, dice, ah beh, sono disperato, ecco il credente no, il credente, questa è una cosa bellissima, frase teologica, irriducibile ad ogni umano penultimo, la speranza del credente, no, quindi noi abbiamo sempre una speranza in più, siamo anche irrequieti, perché siamo irriducibili a ogni umano penultimo, perché vogliamo molto, però ripeto, abbiamo anche questa serenità del seminatore, bello è, Cristicchi, la più bella intervista in Happy Next, il libro di Simone, è quando parla col vecchio contadino, che sta vicino all'acquedotto, dice, ma tu perché semini? io lo so che quest'albero non lo vedrò, però io semino perché poi qualcun altro vedrà i frutti, quindi è la gioia di seminare, il frutto non dipende da noi, non dipende da noi il frutto, tra certe volte tu, mi ricordo quando facciamo le riunioni, un impegno pazzesco, non viene nessuno, altre volte non fai niente, è pieno, non dipende da te, quindi tu devi seminare però, perché sai che se semini, quei semi, hai seminato 100, magari 30, 40, arriva, l'ultimo seme, e qui ti dico, è quello che abbiamo lanciato ai giovani di Economio Francesco, è stato questo, è che è un seme che ancora non ha prodotto niente, è un'idea, che noi la chiamiamo, con Enrico Giovannini l'abbiamo pensato a sta cosa, si chiama Saturday for Future, io ho detto ragazzi, voi dovete fare il Saturday for Future, perché cos'è il Saturday? Voi il Friday, non va bene, il Friday voi chiedete ai potenti, il cambiamento, il cambiamento siete voi, non sono i potenti, voi il giorno dopo dovete andare in piazza e dovete dire, questa è la mia lista della spesa, allora sì che incidete, quindi la consapevolezza che il cambiamento lo facciamo noi, il Saturday, e quindi questo Saturday lo stiamo aspettando. non c'è una domanda, è solo la richiesta di un pensiero conclusivo, a partire da una cosa che hai detto, hai scritto, che forse ti varrà una citazione nella storia della matematica, che hai inventato la quinta operazione, e vorrei che tu ci spiegassi in cosa consiste, verranno rivoluzionati tutti i libri da aritmetica, speriamo che funzioni, ma vorrei che da questo tu partissi per salutare. perché è sempre quella cosa delle relazioni, noi ci hanno insegnato addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, ma il risultato più alto si fa con la quinta operazione, che è la cooperazione, la cooperazione non è uno più uno, non è uno meno uno, è uno con uno, uno con uno fa più di due, uno con uno fa più di due, perché ma guardate è una cosa tecnica, non è che dice questa elucubrazione del professor Becchetti, no no, si chiama superadditività, ognuno di noi ha un'esperienza, un'esperienza, un vissuto, delle competenze, che sono non sovrapponibili con quelle dell'altro, quindi quando ci incontriamo e se cooperiamo, il risultato di quello che facciamo è molto di più di quello che avremmo potuto fare separatamente, perché mettiamo assieme le tessere del pazzo, questo lo vedete per esempio quando fate gruppi di studio, i ragazzi se fanno gruppi di studio, dove studiano, i risultati migliorano, ok, perché magari tu quella cosa di matematica non l'hai capita, quell'altra l'ha capita, quindi uno con uno fa più di due, ecco perché poi unire i generativi, eccetera eccetera, questo lavoro nostro che è sempre un lavoro aggregativo, e anche di passaggio del testimone alle nuove generazioni, quindi la conclusione potrebbe essere, la frase, qual è la frase di Papa Francesco sulla generazione, la sai? non la sai, bocciarla, torna alla prossima, no, il tempo è superiore allo spazio, il Papa dice, il tempo è superiore allo spazio, dice, non dovete occupare spazi tanto per occuparli, ma dovete mettere in modo dei cambiamenti, dei processi che cambiano le cose nel tempo, quindi anche noi adesso stiamo, per esempio, i nostri festival, che è una cosa che abbiamo imparato a far bene negli ultimi cinque anni, i festival, i festival li sappiamo fare, anche questo è di più, e quindi però i festival non sono degli eventi, devono essere dei processi, dei percorsi, qui abbiamo gli ambasciatori dell'economia civile, cioè i lavori nelle scuole, quindi tempo superare allo spazio, e diciamo è l'orizzonte che lasciamo. Grazie. Leonardo Pecchetti. Grazie, e mi raccomando, mi aspetto molto da voi. Grazie.